Allora stiamo già lavorando in provincia su tutte le priorità e rimangono ovviamente la viabilità, le opere pubbliche, la difesa del suolo, quindi il distesso idrogeologico ma anche l'edilizia scolastica, i rifiuti e le questioni ambientali. Queste sono le cose sulle quali stiamo già lavorando. Ovviamente in questi primi giorni ci stiamo organizzando, stiamo riordinando un po' anche pian piano la macchina amministrativa e pian piano ci avviamo ad affrontare già le tematiche più delicate, per esempio sulla viabilità stiamo approntando il piano quinquennale della manutenzione stradale con i fondi del MIT, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ovviamente comunicheremo nel dettaglio i contenuti del piano ma investiamo 7 milioni all'anno, cominciamo ovviamente dal 2019 ma nello stesso tempo stiamo aggiudicando tanti appalti, tante opere che saranno iniziate nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Poi ovviamente incontrerò tutti i dirigenti, sto già incontrando i dirigenti dell'ente per organizzare bene il lavoro da fare e nonché i direttori generali delle società partecipate della provincia che sono Arechi Multiservice e Ecoambiente. Due cose importantissime perché con Arechi stiamo cercando di salvaguardare i servizi ai cittadini, agli enti, ai comuni sulla viabilità, sull'edilizia scolastica, sulla verifica degli impianti termini e sui musei e con Ecoambiente sapete bene che gestiamo ancora lo stir di battipaglia e quindi ci sono anche delle problematiche riguardanti il ciclo dei rifiuti che non è affatto regolare in questo momento e dunque affrontiamo le varie problematiche ancora di competenza provinciale.